Dopo una stagione di grande crisi causata dalla pandemia, aumentata dalla guerra in Ucraina e che ci chiede di creare solidarietà e di camminare insieme. Sono le premesse su cui si stanno muovendo i nuovi passi verso le celebrazioni del Giubileo Mariano del 2026, un appuntamento con la storia della città, chiamata a raccolta a ricordare la prima apparizione della Madonna sul collo di Monteberico. Autorità civili e religiose si sono incontrate in fiera per definire insieme le possibili strategie per meglio valorizzare l'evento con un occhio di riguardo preciso. Guardare in avanti con un occhio di particolare riguardo verso quelle situazioni di fragilità che attendono una voce, attendono una presenza, ecco il santuario di Monteberico e l'anno giubilare della Chiesa Cattolica offrono una opportunità per riscoprire ciò che è essenziale.